Uomini e donne, Giorgio Manetti finisce sotto accusa Per il cavaliere del trono over, piovono molte critiche Tutte le madame del trono over contro Giorgio Manetti. Il famoso cavaliere di uomini e donne ha dovuto affrontare le dure critiche, che gli sono piovute addosso La domanda alla quale si vuole dare una risposta è, ma che tipo di donna cerchi? Sei qui da tre anni Giorgio risponde, l'ho spiegato più volte, non sono qui per trovare un letto, ho un prototipo molto particolare, resto qui finché Maria non mi caccia L'opinionista Gianni Sperti poi conclude, non cerchi amore, hai solo gli ormoni impazziti Giorgio Manetti